Ragazzi, state guardando questo video? Io sono in questo momento in live e ho scoperto La Paranoia, capitolo 1 remake. È un gioco 17 e più, quindi qua mi sa che ragazzi c'è da... non da avere paura, perché io tuttora non ho avuto paura con i giochi di Roblox. Vedete, vedete che secondo me, a sto giro, noi ci ricrediamo. Goditi questo gioco con cuffie, e noi le cuffie ce le abbiamo. Volume massimo e grafica alta, basato su una storia vera in Vietnam, Nghia è il personaggio principale, ha vissuto eventi terrificanti in passato, quindi la paranoia lo ha accompagnato per il resto della sua vita. Sembra interessante la storia, vediamo che cosa succede. La grafica di questo gioco sembra tanta roba, cioè, sembra veramente incredibile raga, io non lo so, ma sembra veramente incredibile. La noia, sponsorizzata da Angelina Mango, direttamente questo gioco. Allora, qui c'è il bagno delle donne, il bagno degli uomini, noi non siamo mai educati. Sento qualcuno piangere raga, scusami, caro, ti serve aiuto? Guarda, scusami, ti lascio piangere, fatti tuoi, madonna quanto era brutto raga. Vabbè, questo sta palesemente, il panda ci sta palesemente provando con lei. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede. Ok, quindi è molto tipo alla dors, perfetto, capitolo 1. Ah, ma era il tizio d'Enguielam, quello lì, il tizio che piangeva in bagno del creatore della mappa. Ok, sembra interessante, sembra interessante, vediamo eh. Allora, questo gioco include due lingue per ovviamente far capire ai giocatori vietnamiti il gioco e anche ovviamente ai forestieri. Vediamo che cosa succede. Oddio, è vietnamita questo. Dategli un'altra dose. Oddio, mi stanno penando! Sono all'ospedale Maple! No, zi, ma mi fanno vendere la diarrea, pure questi. Cosa sta succedendo? Mi stanno permettendo delle siringhe di cosa. Non lo so, chi sono questi dottori? Aiutatemi! Ma come mi dispiace? Ti chiedo scusa. Tanto non posso fare niente, dico... Sento il mio cuore battere veloce, raga. Adesso mi trasformi tipo in una specie di mostro. Non mi dire, non mi piace. Ora ti fanno morire, non credo. Altrimenti il gioco non inizia neanche. Oh mio Dio, dove siamo? Questo è il tetto della... Dell'ospedale? Della stanza? La nostra stanza di d'albergo? Dio mio! Deidi, Deidi. Ula! Sì, beh, il logo potevi farlo un po' meglio. Sempre l'ho disegnato da mia sorella di sei anni, però vabbè. Possiamo finalmente giocare acqua fina. Buona l'acqua fina, in America ne parlano molto bene. Addirittura due letti ci abbiamo. Un secchio per sboccare. Poi, vabbè, una luce che fa luce solo al tetto, stranamente, non si sa come. E un armadio che ovviamente non si può aprire, immaginavo. Apriamo questa porta, chiamiamola così. Ok. Allora, non ho capito, sembra tipo una... Sta squillando un telefono, mi sa che dobbiamo... Dobbiamo rispondere, raga. Oh, là! C'abbiamo una torcia, almeno vediamo qualcosa. Qua c'abbiamo una lavatrice che mi sembra più una specie di cuocitore di bambini, ma lasciamo perdere. Bello sto bagno! Ragazzi, in tutto questo, anche che sto guardando questo video, vi ricordo di sintonizzarvi ogni giorno in live sul sito Viola. Trovate il link in descrizione che venite a giocare insieme a me sul Roblox e registriamo i video insieme. Detto questo, io sto cercando di capire dove è sto telefono perché mi sta esplodendo il cervello. Oh, là c'è il telefono, via. Rispondiamo. Pronto? Come sweetheart. La mia fidanzata, cosa stai facendo? Mi sono... Chi è quella tizia là? Devo trovare qualcosa da mangiare. Vabbè, la mia fidanzata dice mi manchi un sacco. Puoi venire al mio motello, quindi siamo in un motello. Ma chi è quella tizia, raga? Ok, sta arrivando quindi la mia fidanzata. Ciao, scusami, non è che c'è qualcosa da mangiare? Ah, ci possiamo parlare con lei? Ok, quindi non è un mostro. Ah, è mia madre! Quindi sono a casa mia! Non so quante volte te l'ho detto, in ghia. Siamo poveri. Non possiamo accettare un bambino fino a quando non avrai un lavoro stabile. Meno male. Ma questa è la mia vita, mamma. Io sto cercando un lavoro. Ma fai lo youtuber, ghia, scusami, eh. Ma poi la mamma senza volto, un po' strano la mamma, eh. Ok, ci ha chiesto di andare fuori e comprarle un sacchetto di sale. Va bene, mamma. Ma sta piovendo, mamma. Manca un ombrello, c'ho. Che mamma schifosa, oh. Dove si compra il sale solitamente? Al supermercato, immagino. Ho un po' paura di quello che potrebbe succedere. Un po' strano sta città, comunque. Qua, palesemente, non c'è nessuno. Sembra un bar abbandonato. Immagino debba andare di qua. Movedica, palesemente, mi pull up a qualcuno. Incontro un baranza con le... Ah, è lei la ventitrice. Eh, devo comprare del sale, cara. Mi servirebbe del sale. Sì, sono io, un ghia. Sì, 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 sono io. Sono io, cara. Mi servirebbe del sale. È da tanto tempo che non ci sentiamo. Ah, dice che mia mamma non sta bene in questi giorni. Ultimamente è molto strana. Dice che compra sale continuamente, per tutto il mese. Il sale solitamente serve per proteggersi dai demoni. Non vorrei che mia mamma sia un po' impazzita. Ok, quindi praticamente, da quello che abbiamo capito, la nostra mamma è un po' strana ultimamente. E sta comprando, è da un mese praticamente, che continua a comprare sale. Ok, ragazzi, secondo voi, scrivetelo nei commenti e si è in live. Perché la mamma sta comprando tanto sale? Perché mangia salato e la pasta senza sale non le piace? E quindi vuole avere il colesterolo alto? Oppure perché è una pazza psicopatica? Io voto per la seconda. Voi che dite? A me sembra abbastanza tranquilla. È vero che non ce la faccia, però dico che davvero. Mamma, ti ho preso il sale. Ma questo se lo mangia tutto, non lo so. Mamma, ti ho preso il sale, mamma. Tieni. Mamma, non vedo più niente. Te ne puoi andare adesso. Ma mamma, dove me ne devo andare? Scusami. Che sta succedendo? Never mind. Ok, fa niente. Devo andare al motel, che immagino sia quello che sia in realtà hotel. Però motel. Vabbè. Salve. Come ci entro nel motel se non posso entrare? Scusatemi. Oh no. Non è che devo andare di qua, possibile? No. Dove devo andare? Non è abbandonato. Si sente del rumore là fuori, eh. Questo è hotel, non motel. Forse dall'altra parte dobbiamo andare. È ok. Però dico, magari se andiamo di qua c'è il motel. Può essere? Sì, dai, palè. Quante volte ti ho detto, cane, che non devi aprire la porta così? Non è giusto che tu ti comporti in questo modo. Mangia un po' di carne, dai. Non mi fa passare. Devo comprare il cibo a sto maledetto. Fammi un attimino comprare un po' di cibo dalla signora. Signora, mi dia, mi dia della carne. Non lo so. Veda un po' lei. Veda un po' lei. Mi dia anche delle salsicce, che magari ai cani gli piacciono le salsicce. Tieni, 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 tieni. Stai zitto, tieni. Tieni, mangio, mangio. Ah, ok. Questo cane è selvaggio. Non accetta queste cose. Vabbè, le salsicce le accetterà, no? Non accetta questo cibo. Cosa gli devo dare? Sì. Ma solo questo vende lei? I limoni, signora? Ma non penso. Che gli devo dare a sto schifoso? Lavori in corso. Qua ci sono. Oddio. Questa mi sa proprio una casa in cui posso entrare. Sbaglierò? Sì, palese. Ho sbagliato. Non posso entrarci in questa casa. E a questo punto mi viene da pensare, però, cosa gli devo dare da mangiare a quella bestia? Mamma, tu non è che sai qualcosa? Add food. Posso cucinare il cibo? Che devo fare? Oddio. Sto cucinando, raga. Animal Crossing? Sto cucinando la carne. In cucina con Xiao? Ok. Magari forse lo vuole cotto. Può essere. Sta succedendo qualcosa di strano dentro questa casa. Mamma? Mamma? Perché ti metti le musiche indiane per pregare? Vabbè, mamma, sai che c'è, fai quello che vuoi. Mamma, ho mangiato sala, va. Che cosa? Mamma, tutto a posto? Guarda che... Mamma, tutto ok? Stanno... Mi sa che è papà che... Signora, cosa sta succedendomi? Mamma, non sei dietro di me, vero? Ok, no. Vabbè, me ne sto andando dal cane, comunque, io, eh. Che devo andare a trovare la mia fidanzata all'hotel, al motel, al motel. Oh, se non vuole manco questo mi arrabbio di brutto, però, eh. Ma poi che cane è bruttissimo, raga. Tieni, dai. Mangia, mangia, mangia. Oh, stai zitto. Mangia. Bello sto posto, comunque. Mi sembra... Bel quartiere è proprio questo, eh. Ah, eccola la mia fidanzata. Oh! No, non è la mia fidanzata. Chi è quello? Zio 2? Sto cercando la via per il motel. Zio. Zio, la televisione ti serro... Zio. Zio, ma che stai facendo? Mi sa che è uscito qualcuno da amici. Mi sa che hanno fatto uscire Mida da amici. Sono morto, quindi? Non ho capito. È finito così? Dai, no. No, non è finito. Ah, ma era tutto un incubo. Era un incubo? Ok, dai. Calmati, non respirare così affannosamente che mi metti un po' ansia. È un incubo che poi si avvera. Dobbiamo tornare di là dallo zio. Oddio, perché è tutto apocalittico adesso? C'è l'acqua. Posso andare, però? Ho detto... Eh, non posso andare, ragazzi. Non posso proprio andare, ragazzi. Non posso proprio... Che devo fare? Oddio, aspetta. La tipa che vende le ciunghe non c'è neanche. È morta. Non c'è. È morta, raga. Non c'è più. Brutta roba. No, raga. Il personaggio che respira così è malato. Ma che ne so? Forse devo esposare la casa. Che troviamo la mamma. C'è il telefono che si muove là. Chi è? Oh, no. Oh, no. Devi salvarti. Per favore, svegliati. Chi è? Chi è? Pick up the phone. Devi pagare per ciò che hai fatto. Vediamo se c'è la mamma. Mamma. Non sta cagando. Eh, no. Qua c'è la cosa della metro di Milano. Cane satanico, raga. Cosa sono queste cose evidenziate nella mappa? Perché ci sono tutti questi telefoni? No, no. Ok. Devo staccare. Stacca, stacca. Dov'è l'altro telefono? Che devo fare? Sto per morire. Sto per morire. 24, 23. Non lo so, non lo so. Mi stanno tracciando. 15. C'è un quanto alla rovescia, raga. Non so se è capodanno perché sto per morire. Forse devo tornare a casa. 8, 7, 6. 2, 1. Cioè, ma io dico, no? Ma sono cose che si fanno queste? Sto pazzo che respira così. Mi devo salvare. Ho capito che mi devo salvare, zio. Ho capito che devo pagare per ciò che ho fatto. Ma come si paga? Con carte incontanti. Ah, se passano i 50 secondi tutto arriverà alla fine. Ah, con Satisfay? Perché guarda, vedi che non riesco a fare niente. Ah, mi devo preparare in qualche seconda e poi parte. Dov'è? Dov'è? Questo. Hang up. Fatto. Ah, ecco, vedi? Poi di nuovo risuona. Non lo sento. Dobbiamo trovarlo, raga. Dobbiamo trovare il telefono giusto. Eccolo, eccolo. Respira, respira. Stai calmo, stai calmo, stai calmo. Eccolo, eccolo. Hang up. Fatto. Calma e sangue freddo. Ci vuole calma. Calma, calma, calma. Non è lui. Lui? Oh, oh. Ok, lo sento. È lui. No, è lui. Ok. Perfetto, perfetto. Ci siamo, ci siamo. Ok, mi sta piacendo. Mi sta piacendo. E qui? No, lo sentivo. E quello là sotto, mi sa. E quello, è quello, è quello. E qua, è qua, è qua, è qua, è qua. Stai calmo. Respira. Con calma. Non è qua. Mi sa che è dall'altra parte, allora. Lo sento, lo sento, lo sento. È lui, è lui, è lui. Hang up, hang up, hang up. Bene, bene, bene. Respira, respira bene. Bene, respira bene. È lì, mi sa, è quello. È quello. No, ok, è lì. Zio, veloce. È quello lì. È dritto a me, è dritto a me. È lui, è lui, è lui. E basta, però. Quanti telefoni devo staccare, zio? Tutta la gentilina della città. Ancora lui, eh. Quanti telefoni ci sono, raga? Dov'è sto telefono? Perché non lo sento? No, ziccio, ho 20 secondi. È la fine. No, non può finire così. Eccolo, eccolo. Madonna, 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 madonna. Ok, fatto. Un altro ancora. Devo capire dov'è. Sarà di là se non lo sento. Ok, qua. Questo, questo, questo. 40 ora. Perché 40? Che succede? È sempre lui, eh? Perché adesso c'ho 40 secondi invece che 50? Sempre lui, raga. Che ansia, Dio. 500 ore nella tuta gold. Probabile. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Sempre lui, quello di prima. Sta suonando ancora. Non mi posso muo... Che succede io? Non capisco, sono seduto a terra. Sono seduto a terra. Non capisco. No, non è crashato. Non mi piace. A motel siamo. Salve, uncle 6. Ma quanti zii ci sono in sto gioco? Eh sì, sto cercando la... La camera della mia fidanzata. La stanza numero 4. Dice che non è qui da tre giorni da ragazza. Ha detto che sarebbe arrivato un suo amico prima che se ne andasse. Cosa è successo? Cioè, è andata tipo... Ah, gli ha dato la chiave. Qual è il tuo nome? Ghia. Ok, sì, è vero, sono io. Ah, praticamente lei gli ha lasciato la camera della sua stanza. Ok. Ma come, zi? Ti devo può dire veramente... Ma veramente? Gli devo può dire la stanza? Che significa che devo buttare la immondizia? Ma che cosa vuol dire? Oh. Dai, ma è uno scherzo. Cioè, devo fare lo spazzino? È questa la stanza, mi sa. Però non c'ho la chiave. Ah, ok. Devo pulire la terra. Ma veramente? Ma è uno scherzo? Ma non c'ho la scopa. Non ho capito, raga. Ve lo giuro. Questo gioco mi sta confondendo. Ah, ecco. Devo prendere la scopa. Vabbè, sono un idiota. Giustamente. Senza la scopa come faccio? A pulire. Sono un po' scemo. Sono un po' scemo. Chiedo scusa. Ok. Ti rendi conto che mi dovevo mettere a pulire a terra? Cioè, ma a voi vi sembra una cosa normale questa? Che mi dovevo mettere a pulire per terra? Ma come? Sì! Anche lì, anche lì. Tutto a terra là sotto pure. Cioè, ma è un gioco horror? Eh, eh, eh. Non lo so. Cleaning simulator. Ok, mi sa che manca l'ultima. Questa qua. E abbiamo finito. L'uomo delle pulizie mi chiamavano. Spero di aver finito, perché veramente sono... Ah, no. Qua. Come faccio a pulire qua? Zio. Qua, così. Ok. Dai, tu... Oh, ti ho pulito tutto, eh. Non mi rompere le scatole, dai. Dammi ste chiavi, dammi, dai. Oh, grazie mille. Prego, prego. Dammi le... Ma che è un prete? Oh, mi ha dato la chiave. Dov'è? Madonna, a terra me l'ha buttata. Madonna, che incivile. Qualcosa non va qui. Quella ragazza, Trang, è morta tre giorni fa. Cosa? Che cazzo? Ma sta morendo soffocato. Mi sa proprio... Ah, mi sa che pure lo zio è morto, raga. Mi sa che anche lo zio se n'è andato. Vabbè, noi nel dubbio ci abbiamo la scopa, comunque. Nel caso, si fa casino. È scoppiato anche lo zio. Ah, ma questa è la 2, vabbè. Non so manco leggere io. Ah, c'è qualcuno lì dentro. Vediamo se c'è... Se ci può dire qualcosa, non lo so. Scusi, signorina, mi puoi dire cosa... Il demonio. Voglia. Un po' di casino c'è stato. Stava muovendo quella. Qualcuno sta bussando dalla porta, raga. Ma chi è? Chi è alla porta? Ma poi piove sempre sto posto. Ah, mi serve un qualcosa per fixarlo. E non lo so, zio. Cosa devo trovare qua dentro? Non ci sono tools. Incenso. Forse è la scopa che posso usare. Non lo so. Ci stanno maledicendo in cinese sto gioco, secondo me. E non so dove posso trovarlo, un tool. Madonna, raga, ma questo posto è orribile. Ah, ma posso scendere, vabbè. Andiamo a fixare... Ah, hanno chiuso per sempre, raga. Non possiamo più uscire. Bellissimo. La luce ritorna? Non funziona la luce. Perfetto. Strano, chi l'avrebbe mai detto? Sì, c'è proprio un problema elettrico. Sta appigliendo tutto fuoco, sbaglio. Mi serve uno scotch. Dove devo trovare uno scotch in mezzo a sto bordello io? Qualcuno me lo può spiegare? Deve essere uno scherzo. Lo sto capendo un cavolo. Per favore non piangere e non ci rimanere male. Ascolta un attimo. Rimani lì dove sei. Nozzi, nozzi, nozzi. Sta arrivando. Chiudi sta porta. Chiudi! Chiudi! Eccolo il trapano. Tape, tape. Come faccio ad andarmene da qua? E giù, raga. Vabbè, basta, ragazzi. Bello questo gioco. Basta. Io non mi voglio impegnare. Voto sei.